Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora benvenuti in questo video di recensione o alcune cose e ho deciso di ritagliarmi nei minuti prima di scendere per parlarvi di queste cose alcune mi sono piaciute alquanto, altre meglio evitare di spregare questi soldi prendo il mio quadernino dove prendo tutti i miei appunti allora la prima cosa di cui voglio parlare è questa matita lunghissima è della Rebecca Makeup, è una matita occhi e labbra la numerazione è la 148, è da 1.7 grammi, è lunghissima rispetto a una penna normale che ho anche incerottata perché se è rotta è veramente lunga non ho qua una matita occhi, comunque è una matita che ho usato prevalentemente come contorno labbra o al massimo come base per le labbra e poi su ovviamente sono andata con dei colori come matita occhi non lo usate perché il colore è un po' particolare è un marrone rossiccio, ora ve la faccio anche vedere non ho paura a mettere questi colori vicino agli occhi però l'ho provato a mettere tipo come eyeliner a palpebra nuda e avevo difficoltà a stenderla quindi alla fine ho evitato non ho fatto più altre prove questo è il colore della matita, come vi ho detto è un marrone rossiccio non è male, anzi sulle labbra dono un bel effetto, mi piace appena acquistata aveva una patina un po' strana sulla punta quindi ho iniziato a temperare per vedere se era un effetto del caldo passare da un magazzino a un negozio che è climatizzato può rovinare comunque i prodotti e temperato questo primo strato un po' bianchiccio continuo a temperare un altro po' così per ripulire il tutto e funziona, che è una bellezza, mi piace tantissimo allora, come base la trovo molto confortevole non è eccessivamente morbida ma al tempo stesso è di una consistenza molto strutturante sulle labbra cioè le matite e i gloss che vado a metterci sopra sono caldo, scusate se mi tocco che vado a metterci sopra resistono tantissimo mi piace un casino come delineatore con il lucido a labbra mi piace se poi dopo lo sfumo leggermente all'interno e poi vado a passarci il lucido a labbra così gli stacchi eccetera non sedono però non fa neanche sbordare né il lucido a labbra e né il rossetti mi piace tantissimo come delineatore di occhio non l'ho usata ma perché è un colore un po' particolare anche se ho una di Kiko che rossiccia e la metto lo stesso ho avuto difficoltà con questa a disegnare sulla palpebra nuda e cruda secondo prodotto è un prodotto della Yves Rocher è un Lip Balm numero 11 Rose Dux non so pronunciarlo io all'inizio ero convinta che questo fosse un burro di cacao magari con un po' di rosa all'interno visto che si chiama Rose Dux la confezione è da 7 ml ed è quella là con il buchino per la fuoriuscita appena tirato fuori non so quanto si riesca a vedere perché mi entra tanta luce oggi in camera comunque è di un bel rosa quando l'ho preso l'abbiamo una volta ero convinta che fosse una specie di gloss colorato molto intenso invece se ora lo sfumo ecco qua praticamente il colore va via immediatamente e lascia le labbra relativamente lucidine ma con una capardata di brillantini esagerati che in Lip Balm io preferirei evitare visto che per la maggiore la metto in casa o quando scendo il cane quando bisogna di un'idratazione alle labbra non ci esco con questo anche perché l'applicatore è un pochino poco igienico per portarselo in giro quindi vi ho detto magari se non lo posso ritoccare fuori casa quindi evito di mettermelo fuori casa quindi se applicato così e sfumato col dito lascia questo leggero lucidio alle labbra se invece lo si applica con un pennellino quindi usando un pochino più di prodotto il colore non è rosa come ve l'ho fatto vedere all'inizio è si rosa ma più cioè è un gloss su rosa ecco con il pennellino si vede ancora di più l'effetto lucido mi stavo incartando ma questo è il significato poi smalto trasparente della oddio come ti chiami H&M il numero non ha numero si chiama Claire è un trasparente che ho utilizzato sia come base sia come semplice ecco smalto sulle unghie così per proteggere dagli agenti atmosferici e sia come top coat e anche come attaccatore di brillantini come attaccatore di brillantini lo adoro il pennello è di questi larghi che prende bene il colore lo distribuisce con una sola passata nelle unghie piccole con due passate in quelle grandi ha un'asciugatura molto rapida applicato sulle dieci dita è già asciutto praticamente applicato come smalto al solo quindi non usato né come top coat né come base coat ha una durata terrificante non è troppo lucida e nel giro di un paio di giorni si fa la pellicoletta e ti viene voglia di tirarla via ma non viene via manco a pellicoletta quanto a stiscioline insomma neanche come top coat mi è piaciuto l'ho provato sono degli smalti comunque della durata media di 5 giorni da soli con questo non sono arriate manca a 3 ok come base l'ho provato con il verde ed è trapassato il colore con il rosso non è passato neanche con i blu che sono i colori più forti di smalto di pigmento di smalto quindi un ni come base e in generale non mi piace perché non ha questo effetto bello lucido che mi aspetto da uno smalto trasparente lo utilizzerò perché ce l'ho a casa quindi piano piano lo smaltirò pennello pennello della essence quello per la french si chiama french manicure brush quindi pennello applicatore per french manicure che io ho comprato perché pensavo di facilitarmi la stessura dello smalto a lunetta per fare la french ma così non è stata perché a parte per il mignolo si può fare ma già arrivando alle altre dita è corto praticamente non mi forse l'indice è ancora ancora ma tre dita su cinque io non le riesco a colorare l'unica cosa per il quale ora la sto ancora utilizzando sempre per farmi la french oltre a queste due dita il restante utilizzo le due punte perché sono abbastanza morbide ma non troppo rigide ma non troppo per fare dopo aver passato con il pennellino la punta mi aiuto a fare ad aggiustare il sorriso devo comprarmi un altro pennellino per gli smalti perché non ne ho la french è una delle manicure che preferisco a parte il monocolore sia lucido che opaco non sono una da nail art elaborata anzi per niente il massimo mio l'ho sempre detto è un brillantino sull'anulare sinistro e basta campioncino della l'ictena equilidra per pelli sensibili e irritabili pelli normali a tendenza secca spf 15 crema visore idratante ricca con biogaba biotech skin active allora una crema idratante leggo dietro dalla texture ricca e soffice applicata sul viso rileva un'eccezionale setosità e si assorbe velocemente stimola la produzione di acido iarulonico per una pelle elastica e tonica allora effettivamente anche se è una crema per pelli diciamo da da normali scusate a secche quindi è molto corposa ha un'asciugatura rapidissima e l'ho utilizzato questo campioncino nei giorni caldi del mese di maggio diciamo questo ed ero anche a Roma quindi con una temperatura una fa differente molto più no non ero a Roma scusatemi ero appena tornata da Roma sorry revit quindi comunque nei mesi caldi di di maggio ma nella mia città qua a Salerno che ah si si sente l'afa ma ovviamente non è come Roma ero imbrogliata sorry mi è piaciuta tanto perché è veramente molto facile da applicare si stende facilmente si assorbe nel giro di un nanosecondo e non ne occorre tantissimissimo il campioncino era da monodose non c'è scritto ma questi campioncini per meno sono da uno uno e mezzo massimo due millilitri si e io ci ho fatto una settimana di applicazioni mi è piaciuta tantissimo dopo ho ancora un altro prodotto della stessa ditta che pure mi è piaciuto ma ne parliamo dopo il brochet allora crema della collezione al cacao la crema a mani al cacao e arancia allora la crema ovviamente in questo bel tubicino ha un buonissimo odore di cacao l'arancio si sente pochissimo però dà quel retrogusto arancioso non so come si possa dire questa è la sua consistenza è molto liquida di facile di facile spalmabilità ora ne ho messo un quintale e mi piace molto l'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimo è che è troppo liquida quando vado a usare i guantini per farmi la maschera idratante alle mani scivola troppo non idrata quanto una crema più corposa non è eccellente neanche sulle cuticole per idratare le cuticole ma perché è troppo leggera quindi ottima per questo periodo estivo ma già per l'autunno comunque per la primavera nel periodo in cui iniziava a usare non mi è piaciuta in più considerando che è un prodotto che è uscito nella collezione natalizia dovevo farla un pochino più corposa ancora i broche questo è un altro è un campioncino della tradition di hammamam allora balsamo allargan nutriente trattamento quotidiano per il corpo questo è un campioncino da 30 ml che mi ha regalato mia cognata è una crema per il corpo allargana di cui l'odore non mi fa impazzire tantissimo mi sa tanto un po' di medicinale quindi non ci vado pazzissima questa è la crema dalla consistenza un pochino più corposa rispetto alla crema mani che vi ho mostrato prima però c'è dall'assendibilità molto efficace nel senso che con un goccino veramente si fa tutto tutto l'abbraccio ecco qua giro di poco e si assorbe lascia la pelle con questo profumo che sinceramente sparisce velocemente fortunatamente perché non mi piace ma no niente ma idrata benissimo l'unica pecca come stavo dicendo è questo odore che non non mi fa impazzire ma fortunatamente evapora nel giro di poco un quarto odore non lo si sente più mi è piaciuto tantissimo a differenza invece c'avevo anche la doccia schiuma se mi ricordo vi lascio la nuvoletta con la recensione lì l'odore mi piaceva di più ma non era idratante anche se dalla confezione si diceva che era un doccia schiuma anche idratante la crema è molto 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 idratante Kiko le goccine asciugasmalto che vi dovevo recensire tipo un mese e mezzo fa sono le migliori goccine asciugasmalto che ho mai provato in vita mia hanno l'applicatore di quello che adoro cioè la pompettina tutto sono tra quelle che ho provato ho provato Essence e Yves Rocher non mi ricordo se ho provato qualche altra marca forse un paio di confezioni della Essence o uno della Yves Rocher di cui ho odiato la confezione sono meno untuose rispetto a quelle che ho provato in precedenza e lasciano quella non lasciano quella sensazione di unto sulle unghie e quel poco di sensazione che rimane nel giro di pochissimo evapora se ne va via e lo smalto si asciuga in un istante veramente è il miglior no la mano nei capelli quella viene di crema vabbè fa niente comunque mi sono piaciute tantissimo funzionano non sono troppo unte il contenitore è eccellente costicchiano un pochino ma ne valgono la pena poi non è che li uso ogni volta su alcuni smalti so che li devo usare perché altrimenti rimango così con le mani a sventolare dieci ore con altri so che non lo devo utilizzare comunque almeno durano un bel po' sono quasi senza voce ultimo prodotto che vi devo ricensire è sempre della lictena sempre della linea equilidra per pelli sensibili irritabili è la CC cream 7 in 1 anticolorito spento STF 15 con biogaba biotective biotech sensitive act allora è un trattamento perfezionante dalla consistenza morbida e cremosa che uniforma la grana della pelle donando al viso una nuova luce illumina la pelle e la rende radiosa neutralizza il colorito spento idrata protegge da raggio UVB perché ha un SPF 15 uniforma l'incarnato copre l'imperfezione con attivi antiossidanti copertura media senza profumo e parabena adatta di tutti i tipi di pelle allora questa ha un colorito appena la si la si prende non si vede più comunque è viola la potete vedere all'interno del video cosa c'è nel mio beauty che l'avevo inserito avevo diversi campioncini che avevo inserito in un pot sono troppo veloce sorry che avevo inserito in un pot che mi ero portata a Roma quindi se la volete vedere vi lascio qua il link al minutaggio anche esatto dove si vede la cremina quindi è una cremina viola abbastanza corposa che però si stende velocemente e la viola diventa color carne illumina corregge anche le occhiaie wow l'unica cosa ovviamente che non può correggere visto che non è il suo scopo sono i rossori ma le occhiaie la sensazione di questo viso stanco c'ho dei peletti che mi stanno facendo impazzire oddio chissà cosa ho toccato pennelli non mi sono toccata con i pennelli le labbra vabbè sorvoliamo chissà cosa mi è volato vicino alla bocca stavo dicendo mi è piaciuto un casino veramente tantissimo si sfuma facilmente illumina corregge dura tantissimo con la scipia poi dura tutta la giornata veramente tutta la giornata è stato il primo giorno che l'avevo messa a Roma tipo mi sono truccata anzi no vi dico il giorno precedente mi sono truccata in treno come dicevo nel video da Salerno a Bologna tipo verso la stessa Firenze mi sono truccata quindi erano le nove e mezza undici più o meno mi sono truccata quando sono arrivata a Roma alle undici di sera io avevo ancora le occhiai non ci sporchiamo i capelli grazie avevo ancora le occhiai ben coperte avevo questo colorito molto illuminato non sembravo stanca non sembravo che mi ero fatto una scarpiniata anche se comunque in Italo quindi treni comodi comunque da Salerno mi sono svegliata alle 5 del mattino ero arrivata un attimo a Bologna poi ero scesa giù a Roma a Bologna avevo camminato tantissimo avevo fatto delle cose caos e non sembrava che ero così stanca in volto anche se avevo gli occhi a zombie ok ho perso la voce io ho finito questo video spero che queste recensioni vi possano essere utili vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze ciao ragazzi in gamba